Benvenuto nel canale YouTube di Dog Cafe Academy. Io sono Fabrizio Collova, per chi non mi conoscesse, sono dog listener e fondatore di Dog Cafe Academy, appunto la scuola in cui si studia la lingua del cane. In questo canale puoi trovare diversi consigli, tantissimi video sulla gestione del cane, del cucciolo adulto, diviso per sezioni, in modo che potrai identificare tra i tanti video che ci sono quello che più fa per te per rispondere al tuo bisogno, al tuo problema nella gestione o nella relazione con il tuo cane. Ti invito ad iscriverti per non perdere i prossimi video che pubblicherò. Ma di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di qualcosa che trovo nella maggior parte dei possessori di cani, una vera e propria paura, qualcosa che effettivamente ci impedisce di goderci appieno il nostro cane. Si tratta della paura di lasciare libero il proprio cane. Se lo lascio libero scappa, questo è quello che molte persone mi dicono e quindi vorrebbero in qualche modo risolvere questo problema. Se starai con me fino alla fine di questo video ti darò un elemento, un piccolo segreto che ti aiuterà tantissimo a cancellare questa paura se ce l'hai anche tu, oppure se ce l'ha qualcuno che conosci e che vorrai aiutare e anche un piccolo strumento che ti metterà sulla giusta strada per evitare che questa paura ti venga e per poter gestire il proprio cane in libertà. Tutti quanti vorremmo che i nostri cani facessero i cani, non fossero obbligati, non fossero in qualche modo oppressi dalle nostre continue richieste, anche se le facciamo spesso involontariamente, dalle nostre continue richieste che vengono fuori dal nostro contesto, dal contesto in cui viviamo, dalla vita che facciamo, che spesso è molto limitativa, lo è per noi, figuriamoci per i nostri cani. Quindi questo tema del oddio ho paura che il mio cane mi scappi nel momento in cui lo lascerò libero ci porterà a costringere il nostro cane sempre chiuso da qualche parte o ragionare in termini di sicurezza eccessiva spesso con il nostro cane proprio perché non sappiamo alcune cose, non abbiamo alcune nozioni e quindi magari lo teniamo sempre al guinzaio. Questo da un lato ci dà sicurezza perché se è al guinzaio in qualche modo è al sicuro, sta lì con me, non può scappare. Ma allo stesso tempo credo che ci crei dentro una sorta di angoscia, di malessere perché noi vorremmo effettivamente che il nostro cane faccia il cane e quindi vederlo correre in libertà su un prato senza avere la paura di poterlo smarrire o che se ne vada e non tornare più. Dimmi se non hai mai provato questa paura o se non conosci qualcuno che abbia provato questa paura. Puoi dirlo nei commenti se vuoi. Ma torniamo alla nostra paura e perché parlo di questa paura non solo perché è una frase che mi viene spesso rivolta dai possessori di cani o dai miei clienti o dagli studenti della scuola che non riescono veramente a superare questo scoglio ma perché io per prima l'ho provata. E ti voglio raccontare in questo video da dove sono partito perché spesso mi dicono vabbè tu queste cose non le hai provate. No io le ho provate per prima e oggi faccio doglistener proprio perché sono passato anch'io da questi problemi, da queste paure comuni, quelle che anche tu magari potresti avere e che stai tentando di risolvere. Tanti anni fa quando ho iniziato ad avere a che fare con i cani avevo una terribile paura di lasciarlo libero, lasciare libero il mio cane perché avevo paura proprio che se ne andasse o anche semplicemente di non poterlo gestire bene quindi che potesse andare sotto la macchina o potesse fare qualcosa che non deve non deve fare. E quindi avevo costantemente il mio cane al guinzaio, cosa che è corretta fare naturalmente in determinati contesti soprattutto anche perché è la legge che ce lo dice. Più avanti vedremo quando è consentito lasciare il cane libero ma io sentivo questo conflitto interiore da un lato volevo lasciare il mio cane libero per veder rifare il cane e dava libertà e serenità anche a me. Da un altro lato invece avevo una paura incredibile e lo tenevo sempre al guinzaio. Figurati che alcuni amici magari un po' più sbadati o un po' più free di carattere rispetto a me in qualche modo mi dicevano ma perché non lo lasci libero perché non lo lasci libero e avevano ragione da un lato ma da un altro lato con gli anni facendo questo lavoro ho capito che loro non avevano nessuna nozione per dirmi quella cosa. Da un lato era giusto farlo ma da un altro lato in qualche modo non avevano nessuno strumento per poterlo fare bene quindi è giusto farlo ma farlo bene quindi provenivo da questa condizione avere questa paura e quindi praticamente non lasciavo mai libero il mio cane. Allora avevo la mia buona Doxy Labdornera ed avevo una fortissima resistenza a farlo mai nessuno mi aveva detto cosa poteva succedere o mi aveva aiutato ad affrontare questa paura. Penso di esserci arrivato da solo con gli anni con gli studi che ho fatto ed insegnando alla gente appunto ad avere a che fare con il proprio cane e quindi si può dire che nella mia carriera recentemente ho provato finalmente questa sensazione di poter fare una bella passeggiata con il cane libero. Parliamo subito di quando si può fare. Nel momento in cui noi lasciamo il cane libero è chiaro che dobbiamo prenderci delle responsabilità per non andare diciamo fuori legge è consigliabile anzi è possibile farlo soltanto in aperta campagna o in montagna in assenza di specifiche indicazioni locali che magari lo proibiscono per esempio in alcuni parchi e comunque sempre facendo molta attenzione ai pericoli che possono esserci in giro pericoli per il nostro cane e pericoli per altre persone per bambini per altri cani eccetera quindi per il contesto. Fatta questa valutazione allora nel momento in cui decidiamo di c'è il contesto di poter in cui possiamo liberare il nostro cane lo facciamo. Questo è quello che ci consente di fare la legge. Naturalmente non possiamo pensare di liberarlo purtroppo come spesso si vede in piena città oppure in mezzo alle macchine per evidenti problemi o evidenti rischi che correremmo. Ma se hai la possibilità di andare nel weekend in montagna a fare una bella passeggiata con il cane sicuramente quella è una buona occasione per sperimentare questa esperienza bellissima scoprirai un nuovo cane un cane tuo che non hai mai conosciuto ed è anche una buona occasione per combattere e vincere finalmente questa paura. Ma come mi ha aiutato? Come io ho superato questa paura per primo? Prima di tutto ho studiato come funziona un cane perché è proprio su un elemento che appartiene al funzionamento del cane come essere vivente che può aiutarti a evitare questa paura di rimanere incastrato in questa paura e quindi perderti questa grande occasione di esperienza di divertimento con il tuo cane. Il cane è un animale sociale così come il lupo e così come l'uomo e in virtù di questo il cane ha interesse ha convenienza a starci vicino a stare con il suo branco e naturalmente noi siamo il branco del nostro cane. È proprio una convenienza quindi cerca di spogliare questa nozione che ti sto dando da tutto ciò che è umano che appartiene al cuore all'affetto che abbiamo per il nostro cane non che sia sbagliato avere voler bene al proprio cane ci mancherebbe ma spesso alcune nozioni devono entrare nella nostra testa per poter essere ben acquisite in maniera più semplice. Se io ti dico sì ok vuoi il tuo cane sta con te perché ti vuole bene ok sì è vero ma non ti aiuterà ad usare questa nozione che ti sto dando. Se io invece ti dico il tuo cane sta con te perché gli conviene ecco che abbiamo eliminato tutto quello che è romantico nella nostra relazione e tu sai che il tuo cane starà con te perché gli conviene e ti dico subito perché il lupo in natura da solo non vive nel senso che quando succede che un lupo si distacca dal proprio branco è veramente in forte pericolo di vita. Ormai dovresti sapere se non lo sai te lo dico che il lupo è il cane l'antenato del cane quindi il cane funziona come il nostro lupo. Adesso hai una nuova nozione che è quella che il tuo cane sta con te per una convenienza. Gli conviene questo dovrebbe aiutarti a capire che anche se avete problemi di relazione puoi mettere in dubbio che il tuo cane voglia bene a te allora c'è questa nozione che ti dice ok il cane funziona così sta con te quindi siete un branco. Nel momento in cui tu quindi ti ritrovi fuori e ti viene la paura di liberare il tuo cane pensa ok non si allontanerà più di tanto perché io sono il suo branco siamo insieme questo è innegabile e quindi conviene stare con te da solo rischia di più la vita. Questo già dovrebbe aiutarti a cambiare il tuo modo di vedere la relazione con il tuo cane e quindi di cominciare ad intraprendere quella strada più o meno lunga che ti porterà all'eliminazione di questa paura. Questo è quello che io dico ai miei clienti e ai miei studenti e studenti che fa parte del funzionamento del cane. Questo è quello che io finalmente ho capito dopo anni di studio su libri su esperienze con altre durante i miei anni di formazione e ho capito che il cane funziona così tra le tante cose. Questo mi ha già cambiato il punto di vista studiando e provando sperimentando magari in condizioni più semplici all'inizio e poi man mano aumentando sempre le difficoltà ho cominciato a testare questa cosa ed effettivamente il cane non si allontana. Avere questa nozione sul funzionamento del cane e instaurare una buona leadership e un buona buona relazione quello è alla base di tutto e ti aiuterà a superare questa paura per arrivare a vivere questa bellissima esperienza. Quello che veramente mi ha messo davanti agli occhi l'efficacia di questa nuova nozione è stata la pratica all'inizio l'ho fatto da solo poi ho iniziato a farlo anche in altre occasioni dicendolo agli altri e quando mi è capitato durante i dog trekking io pratico dog trekking da quando non si chiamava dog trekking e andavo semplicemente con gli amici tantissimi anni fa nel bosco con la mia prima labrador doxi appunto e vedevo che in realtà non si allontanava. Allora avevo una relazione già migliore ma con tantissimi problemi come chiunque li possa avere con il proprio cane quindi non considero il rapporto che oggi possa avere con i miei cani che è molto più evoluto e molto più solido. All'inizio come tutti quanti anch'io avevo un cane facevo tanti errori e nonostante questo andavo nel bosco e vedevo che era tanta la voglia di liberare il mio cane che lo facevo ma il mio cane mi stava accanto o nei dintorni. Questo non significa che il cane non possa veramente andare via ma se succede vuol dire che c'è un problema diverso o che la vostra relazione è talmente terribile che il cane preferisce abbandonarti andare via ma ti assicuro che nei miei diversi anni di esperienza con i cani e con tantissimi cani miei ed altre persone non ho mai visto una cosa del genere oppure c'è un problema proprio di confusione il cane non riesce ad usare l'olfatto magari ha veramente delle difficoltà fisiche e sta male o un diciamo una paura incredibile che porta il cane ad allontanarsi talmente tanto da non vederti più e non ritrovare la strada di casa o la strada verso di te. Chiaro ma è veramente veramente raro non mi è mai capitato di vedere una cosa del genere è giusto fare delle cose imparare a gestire il proprio cane in libertà e questo è quello che facciamo in dog trekking. A proposito ne faccio in tutta Italia diverse in diverse regioni d'Italia e il prossimo sarà il prossimo 16 dicembre a in Puglia quindi se sei da quelle parti potrai vicino Bari potrai assaporare e veramente e provare mettere in pratica gli effetti di questa nozione che ti sto dando e io negli anni quindi ho praticato e pratico ancora il drug trekking e ho provato ho sperimentato effettivamente l'efficacia di questa nozione il cane non se ne andava ho cominciato a praticarla praticarla e adesso fortunatamente mi posso godere questa esperienza in libertà con il mio cane in genere portopenni per una questione di età e praticamente sto tutto il tempo con il cane libero dove è consentito naturalmente e riesco ad avere un ottimo controllo senza dover fare chissà che cosa chiunque ci può arrivare anche tu è soltanto un problema di costanza nello studio questo l'ho anche tramandato e ormai lo insegno è una cosa che facciamo una cosa che impariamo nei drug trekking ed è e lo facciamo così ok vedi che ce l'hai dietro premia ok cambia direzione vai dall'altro lato state rinforzando il richiamo vedi che ce l'hai sempre dietro il cane sfoga intanto ma vedi che ce l'hai sempre la cambia cambia direzione davanti cambi sempre direzione richiama richiama ancora non ti fermare richiama e vai mentre vai premio guinzaio io sempre faccio provare alle persone questa questa sensazione proprio per non tanto per lavorare con il cane ma per lavorare sulle persone su quello che c'è dentro proprio quella paura iniziale che abbiamo a sciogliere il cane naturalmente poi se verrai avrai modo di avremo modo di approfondire bene i dettagli di questa tecnica e di cosa si fa realmente quali sono le valutazioni che vanno fatte prima di sciogliere il cane eccetera eccetera che sarebbe troppo lungo da spiegare in questo video ma una cosa te la voglio dire sostanzialmente cosa devi fare devi trovare uno spazio dove c'è abbastanza visibilità sciogliere il cane quindi sconfiggere quella tua resistenza a sciogliere il cane dove non ci sono pericoli naturalmente e cominciare a camminare anche in tondo senza avere una meta e trovarti sempre davanti al tuo cane cioè cerca di dare sempre la direzione e trovarti il cane dietro un po come se te la volessi tirare no come se volessi dare al cane la sensazione di abbandonarlo è un vero e proprio blef e lo premi naturalmente quando verrà quindi i veri strumenti che ti aiuteranno a sconfiggere a raggiungere questo risultato sono uno so come funziona il cane il cane non si allontana dal suo branco perché non gli conviene funzionamento questo inizierà a lavorare sulla tua paura scegli una buona condizione in cui puoi liberare il cane che non è la spiaggia il parco o qualche ambiente cittadino devi proprio andare in un ambiente isolato fai un bel dog tracking quando potrai poi se avrai modo parteciperai ad uno dei nostri dog tracking e proverai finalmente questa azione di togliere il guinzaglio e finalmente il cane va il cane andrà subito dai una direzione se ti trovi sempre nella condizione di dare la direzione trovarti sempre dal davanti al tuo cane questo è uno strumento pratico che ti aiuterà a beneficiare di questa esperienza veramente positiva bene ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine spero che tu ci sia stato ti ricordo di attivare la campanella e di mettere un mi piace se ti è piaciuto appunto questo video o se pensi che ti possa aiutare in futuro anzi fammi sapere scrivi nei commenti cosa ti succederà se hai seguito questi consigli alla prossima uscita con il tuo cane ci vediamo al prossimo video